Sfida a scacchi tra il grande maestro Torre e il maestro di Dama Ferrari Buon gioco a tutti Fai il gambetto Ale Occhio al centro Ho fatto il gambetto Il cavallo Ale Bravo Scacco apparato Giusto Ok Ok Stai attento la regina Giusto Sviluppa i pezzi Ale Se non ce la fai Cosa hai paura? Si mette qua al dà fastidio Quello si però Se non sviluppi quei pezzi là E' la prima volta che vedo Alessandro giocare a scacchi Dal vivo Dal vivo anch'io E' vero Io e lui abbiamo giocato un po' su Play Ok Mi ho rimosso prima l'alfiere Ale Adesso è bloccato La formica che va solo sulle caselle bianche L'alfiere Ale L'alfiere Ale No perchè me lo mangio Allora lo metti qua almeno difendi un po' E' un po'? Eh ci sta e' cazza roda Si abbastanza Almeno lo sviluppi Lì non ti serve a niente Grazie a tutti. 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 Aspetta che sto inquadrando. Grazie a tutti. Posso provare.